bella a tutti ragazzi e ben ritrovati nel terzo episodio del roach commander scala di advanced warfare e ho tentato di registrarvi come sempre ma non è successo niente e due kill e una morte e non sto usando come sempre il bal 27 carbon oro ma sto usando una nuova arma giunta nell'aggiornamento di ieri si chiama sm1 sm1 che è praticamente il verso del scorso call of duty ghost ed è stata aggiunta nell'aggiornamento di ieri è questa qua che sto impugnando parà dai 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 usiamo cosa questo attacco missilistico vulcan è l'attacco è la vulcan non abbia fatto un cavolo e ok siamo in modalità dominio comunque mi ricordo che come un amico prendi alfa mamma mia e vabbè non c'è nessuno che sta fuori vabbè allora niente no riavvio exo dai 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 non possiamo saltare adesso c'è in alto possiamo saltare ma non in alto come sempre noi stiamo prendendo c dai stai veloci 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 ok abbiamo preso c attenzione e perfetto riavvio exo per favore niente dai ok io non posso vivere senza l'exo su questo giu dai mamma mia santa madonna santa madonna santa madonna no non ha senso tanto cos'è su cos'era successo uno lo fu sti bug sti bug sti bug sti bug del cavolo mamma come lo uccide una roba strategica vai 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 attenzione sempre lui perché 375 punti per una kill vabbè meglio sempre in una serie di uccisioni da 15 il primo non mi che bomba è ma non è l'ultimo ma tripla abbiamo perso vizioni siamo a fammacello mamma mia non ci credo nemmeno io ragazzi non mi sono ubriacato roba del genere per essere più forte del solito sono normalmente più forte del solito non so il motivo però so solo che sta accadendo perché di solito su call of duty faccio schifo e vi volevo dire che su fifa nei prossimi video invece di carlo vedete vedrete guanyama if perché appunto ho venduto carlo lì e mi sono preso guanyama if e niente è avvento il faccio intanto questa roba mi fa incavolare tanto con quest'arma sono diventato un vero pro sono più forte che con le altre armi ce n'era uno camperato lì prima l'avranno ucciso io ci godo e che ottima postazione per camperare però visto che non capro scendo dai è brutto camperare fine primo round stiamo vincendo 81 a 64 in modalità dominio in bio lab è la che il cam è di inersi che è il primo che è una bomba atomica importante che nella nostra squadra sto facendo 11 4 non so il motivo è il primo casino di punti staffa dominio sta facendo 22 5 praticamente ci faccio altre 11 uccisioni lui non le fa riesco a recuperarlo anche se mi sembra un po difficile tanto usiamo il vulcan se perfetto uscita dagli edifici mamma adesso siamo impossibile lanciare l'approvvigionamento qui diciamolo qua no adesso ce lo prende lui il nostro lancio di rifornimenti caro caruccio aspettate forse ce la facciamo a prendercelo noi perché noi siamo di veri pro ma devo uccidere assolutamente quel bistard che mi ha preso il lancio di rifornimenti il approvvigionamento dai comunque dovete dire la verità scrivete nei commenti se sono più forte del solito ragazzi però non so nemmeno io il motivo no ci ha fregato il nemico da uccidere e intanto diava dai aggrappati cioè aggrappati non è come su far cry di poi aggrappare un unity e vi porterò deciso l'ex play di the crew e di assassin creed unity no perché a parere mio l'ho fatto già in troppi poi vabbè vi porterò i soliti video su fifa e su call of duty e come si può dire mi viene il nome ah e dei funny moments cazzeggio mega cazzeggi video deathmatch gare tutto sta roba su gg a 5 che mi arriva appunto giovedì che è natale e sono felicissimo di questo regalo che mi accoglieva no perché sto andando tutta rallentatore ammazzati adesso devo prendere il ranchi e chiedi 25 approvvigionamenti orbitali uovi 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 eh perché comunque a cod sto diventando sempre un vero più vero appassionato di cod diventando quindi sempre più un appassionato di cod perché quest'anno a me piace tantissimo appena prima di prenderlo a dire la verità non volevo nemmeno prenderlo quando è stato definito il lancio solo che perché lo descrivevo lo definivo troppo futuristico invece adesso mi piace mi piace dai catturiamo prendiamo a prendiamo a te che stiamo vincendo 129 101 ragazzi dai 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 io mi guardo sempre attorno così preso si dai assist di u a b a a meno male mi ha fatto prendere un colpo il mio compagno il nemico prende charlie mamma mia prende dentro il nemico prende c abbiamo perso approvvigionamento pronto veramente sono un vero pro con quest'arma la userò sempre va al 27 mi sa che lo abbandono se si muove magari conquistiamo alfa andiamo a no dai 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 prende il vulcan veloce veloce dai man yo man grande man perdiamo bravo sei fermo vai adesso usiamo non ci si approvvigionamento che si può lanciare ok qua no prendi il drone ricognitore che userò camperandomi qua perché se no il drone ricognitore posizionamento drone non valido adesso penso sia valido e infatti è valido andiamo non mi vedo qui niente però va bene adesso vedo tutto infiltriamoci andiamo drone prendi il drone ricognitore nemico il nemico prendeci vai mamma mia abbiamo perso assist con il drone ricognitore ok stiamo facendo 19-7 e la partita finisce ragazzi vittoria per noi 159 a 136 una persona che mi segue è nel video adesso proprio in live ed è luigi super 003 ho fatto anche dei video con lui passati sul suo canale che si chiama omi 003 e ok fuoco mamma mia oh se sono saliti di un botto sono migliorato e mi ha scritto bella da omi e abbandoniamo la lobby apriamo questo lancio di rispondimenti attenzione proveremo schifezze uh punti per due oh mamma mia che cos'è sta albona mamma mia ragazzi tanto fuoco rapido fuoco rapido cadenza di fuoco aumentata calcio calcio per ridurre il rinculo ma vabbè a me va bene anche questa e quindi lasciate tantissimi like arriviamo a 6 like per il prossimo episodio del route commander su call of duty advanced warfare commentate e e ditemi anche se sono state più forte del solito ragazzi iscrivetevi al canale e passate sulla pagina sulla pagina facebook che trovate nella descrizione di tutti i video e noi ci vediamo al prossimo video bella raga